Ho già trattato in altre occasioni i prodotti della linea rugged di Nomad, ad esempio le custodie protettive per Airpods Pro e come ogni volta non posso che apprezzarne i materiali e la qualità costruttiva. Come per ogni prodotto realizzato dal marchio, Nomad Rugged Case per iPhone 11 e 12 viene spedita all'interno di un'elegante confezione magnetica che lascia presagire il valore del suo contenuto, una bellissima custodia robusta in vera pelle Orwen. Per chi non la conoscesse si tratta di pelle premium conciata al vegetale e prodotta in America dalla Orwen Leader Company di Chicago. Tale tipologia di goncia dona al pellame resistenza e impermeabilità, nonché una patina che si svilupperà nel tempo e donerà uno stile unico al prodotto. Ma la peculiarità di questa custodia non è solo il suo aspetto elegante, infatti si dimostra un'efficace protezione per i nostri dispositivi. Ciò è possibile grazie ai bordi rialzati che proteggono lo schermo e le fotocamere dell'iPhone e il suo telaio in policarbonato fissato a un paraurti in TPE che garantisce una protezione dalle cadute fino a 1,8 metri. Per finire l'interno è rivestito con morbida microfibra che accoglie l'iPhone al meglio e favorisce l'applicazione della custodia. Tuttavia è osservandola più da vicino che si apprezzerà la cura in ogni singolo dettaglio. Le aperture sono finemente sagomate, i pulsanti perfettamente funzionanti e non è presente la minima sbavatura. Ma l'aspetto incredibile di questa custodia è che nonostante la sua natura rugged riesce ad essere relativamente sottile, leggera e pienamente compatibile con la ricarica wireless. Nomad Rugged Case è disponibile per iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 Mini nelle colorazioni marrone rustico, nero e pelle naturale. Invece per iPhone 11, iPhone 11 Pro e Pro Max nelle sole colorazioni marrone rustico e nero. Il suo costo è decisamente inferiore ad una custodia in pelle originale Apple, ovvero 49,95$. Prezzo più che equo, considerata la sua qualità e il fatto che questa custodia è stata concepita per durare nel tempo.